ma da quello da cui ha preso di più la vita io penso che essere umili si spende da tutti lì ha avuto anche Guido Pino ha avuto Vicini, ha avuto Biconso non ha avuto il dentore però lì facevo il giocatore quindi forse ho assorbito le loro nozioni le loro trasmissioni che mi hanno dato all'alto della carriera però ho cercato di essere sempre me stesso attingendo quello che loro via via mi hanno dato però quello che capisce a vent'anni non lo capisce a trent'anni quindi sono situazioni molto diverse però ancora oggi mi chiamo, ci sentiamo quindi il fatto che al di là dell'aspetto tecnico c'è anche il rapporto umano che va oltre, penso che per una squadra ritornando il padua prima invece vuole il rapporto umano il rapporto di gruppo e poi si fa la tecnica la tattica e tutto il resto è che è